allora ragazzi dobbiamo fare bella ragazze mi pirlaaas vu 3,2,1 ciao ragazzi grandissimi grandissimi scappiamo maicon aiuto guardate che bello maicon basta mi arrendo iniziamo questo video è arrivata la polizia a prendervi ho chiamato io la polizia è arrivata a prendervi sta merda dov'è maicon eccolo qua oggi ragazzi parla di soldi ma tu sai che hai dato i soldi vero si lo trova a te è bella prendetelo c'hai soldi pigatelo 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 va bene che il Milan squadra in bancarotta però non è che puoi ragazzi iscrivetevi al canale perché se siete i giuventini vincendo la maglia della Juve se non siete i giuventini vincendo i soldi quindi iscrivetevi al canale cliccate questo pulsante bellissimo iscriviti iscriviti ogni like Pier diventerà milanista questo vuol dire ogni like divento milanista che ogni like levi una partita bolognese la fai diventare milanista no ma voi li volete questi soldi prima di tutto mi dovete dire che squadra ti fate Milan Inter Milan le orecchie le orecchie le dovete dire cosa pensate della Juve ma che squadra ti amo l'Inter e la Juve fa schifo che squadra ti Milan cosa pensi della Juve che sono dei ladri schifosi che squadra ti io l'Inter cosa pensi della Juve dove f***e non saresti mai una maglia della Juve ma sto f***e mai che squadra ti Milan cosa pensi della Juve che fa schifo Inter non ti dico Roma Pomodoro e Milan Coppa d'O che squadra ti io ho Inter cosa pensi della Juve la Juve è il cesso di casa mia che talmente fa cagare che quando guardo la tv mi viene la diarrea vado a cagare perché nominiamo così tanto la Juve in questo video perché stiamo parlando di Juve vi volete i soldi si indossereste mai la maglia della Juve benissimo ragazzi in questo video regaliamo 2 euro tutti quelli che indossano questa e dicono forza Juve cosa è successo scusa ma non faceva schifo se si tratta di soldi sono soldi questo video è per testare quanto siete attaccati alla vostra squadra tu la indossi? eh per 2 euro allora spostatevi lui ha già detto di sì ma chi è per 2 euro? ma vi vendete così ma che soldi? e tu ti fa eh Inter amo l'Inter e la Juve fa schifo eh amo l'Inter la foglia tieni ragazzi questo qua vuol dire che non tenete veramente piede alla vostra squadra è l'interista che tradisce eh forza la Juve forza io ma non ci posso credere è un Higuain è un Higuain l'interista che tradisce eh forza la Juve allora 1 e 2 ma tu che prima hai detto che a me l'Inter la fogliava perché hai fatto questa cosa solo per 2 euro? eh i soldi su soldi pensavi solo ai soldi soldi chiediamo a un napoletano a casa cosa pensate della Juve? allora la Juve può usarla come carta igienica anche si e voi tradireste mai il Napoli con la Juve? mettereste mai la mano della Juve? regaliamo 2 euro a chi indossa questa e dice forza Juve no mai ma questi sì che sono veri tifosi non come voi rinunciate ai 2 euro Juve a me! Juve a me! Juve a me! questi sì che sono veri tifosi non come loro te, 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 tu con questa maglia dell'Inter se tu te la togli e menti questa vinci 2 euro devi di forza Juve lo fai? non lo fa? non lo fa? prendete se solo lì non lo fa? tutti i fi Juve vero? a me scusi tutti i fi Milano lo fareste? per soldi in più sì per quanti soldi? eh noi offriamo 2 euro te lo lasciate va bene da lì lo fai? indossi questa? per 2 euro? bene dai dividi di forza Juve mi tocca oh cos'è da dire sul Milano rispetto ai più grandi loro dal 1899 noi siamo stati creati da voi faiato la madre da Juve fermi 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 è una vergogna questa però 2 euro ragazzi tanto è Milano non è pazzo non ci provare più a dirlo facevo karate eh quindi ahiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaesee forza Juve però forza Juve l'ha fatto? ah hai fatto una brutta cosa e uno colpa al cuore lo sai uno E due da farei con questi soldi come dicono tutti nei video vado al mcdonald Ormai neanche si sta facendo ricchi ragazzi Noi pagateci me che vi stiamo sponsorizzando squadra di pite mila tradiresti ma il milano con una maglia d'aiuto resta la maglietta E' un venduto come i guai Oh venduto come i guai Ti dovresti vergognare di indossare con l'amore Cioè hai rinunciato alla fine, è un troll, pensavo lo volessi No, grazie Guarda tivi Vuoi due euro indossi la maglia della juve Per i due euro e devi dire anche forza io Si lo fa si vede cosa pensi della juve Che va schifo inter non ti dico Roma pomodoro e Milano popadono Non ti vogliamo Lui intanto avrà due euro tu no Non mi importa io 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 difendo la mia squadra io non la non la umilerei mai Forza io Vai dillo vediamo Forza juve Forza juve l'ha detto Si sono scelti della vita lui ha scelto di fare così E voi cosa fareste? Scrivete nei commenti Io non tradirei mai la juve Per il Milan e per l'Inter e la Lazio Non lascerai mai Ma Solo perché c'è di bala Ragazzi mi spiace gli juventini non possono mincere i due euro Troppo facile per voi Tifo Lazio tifo Lazio Sì certo Io non tradirei mai la juve Per il Milan e per l'Inter e la Lazio Non lascerai mai Un altro euro a te cosa farei con quei soldi Con un euro pagherò il Milan per perdonarmi cosa appena ha detto Forza Juve Con un altro un euro comprerò una figa Una figa Ma che figa ti prendi con un euro Ti prendi mai con un euro No Dobbiamo trovare un milanista interista E posso chiedere che quadro ti fate per un video su Youtube Interno Offriamo due euro Per vincere questi due euro basta mettersi questa e dire Forza Juve E si vincono due euro Eh adesso devi scegliere se farlo o no Divani fedele o vinci due euro? No no fedele E rifiuti? Eh non come voi questi si sono venduti facile Ciao ragazzi Vedete cosa fanno loro? Tu che squadra tipo? Milan Fammi vedere delle prove Su Instagram l'hai visto Perché magari uno diciasso milanista in realtà è Juventino Milan Si Ah vediamo allo schermo del Milan è spionte come sfondo E poi Instagram Adesso trova Sasha Gracie Pirlas V come primo risultato E c'ha l'immagine Milan e poi aspetta aspetta Tu sei milanista spiegatato Vinci due euro devi indossare questa e dire Forza Juve Tradisci la tua squadra o rimani fedele? Allora non vorrei tradirla però da sportivo potrei farla E ecco che abbraccia il nero Oh i milanisti tradiscono più degli interisti eh Forza Juve Eh va bene Non c'hai da dire Mi sembra ingendo il cuore Uno e due E che squadra ti fate? Milan Mio padre mi ha stressato per anni perché voleva che ti fassi Juve E quindi adesso va con lui E tu sei rimasto a vedere l'hai sempre resistito Perché noi regaliamo due euro L'unica condizione è mettersi questa e dire Forza Juve Qui a Milano davanti a Piazza Duomo Che va bene Vabbè così Ci vado a mangiare con quei due euro Si vendono tutti qui a Milano ragazzi Poveri milanisti Non fatevi vendere intanto Forza Juve Quanta allegria l'ha detto Quanta allegria C'è proprio per i soldi si cambia Vatteti per favore milanisti No Venite i soldi No, venite i soldi Pensava solo ai soldi I soldi Vediamo i due euro Ok Uno e due Cosa farei con questi due euro? Ci mangio Dove? Non lo so No, non ho il Mac Sono a dieta Ok, grazie Ciao Allora lui, tu che squadra ti fai? Milan Allora vediamo se c'è un altro milanista che tradisce Due euro, basta indossare questa e dire Forza Juve No 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 Un milanista che resiste, incredibile Cos'hai da dire? Perché la vera curva Sud Milano non tradisce mai Tutti i finti Sì Da quanto tempo? Da sei anni Cosa ti ha fatto di fare Inter? Per Coppa di Zanetti Cosa pensi la Juve? Che ne è merdosa la squadra Tradiresti mai l'Inter per la Juve? Sì Ah, lo faresti Ah! Quindi due euro, tu te la indossi questa e vinci? Sì, così Cos'hai da dire interista? Tu non ti devi permettere perché tu stai bestemmiando Addirittura Tu stai bestemmiando questa squadra Cioè vediamo lo stiamo Questo, questo, questo Quindi abbiamo anche interisti che tradiscono, vieni Forza Juve Ce l'ha detto Due euro, dove sono? Michael, due euro Una e due Bravissima Spero che non li spenderai per andare allo stadio a fare Inter Perché ecco, non lo metti Bene ragazzi, allora visto che lui mi ha rotto le scatole tutto il tempo Tieni, indossa Però lui è Juventino quindi non si pappa i soldi Allora per avere i soldi Dire Forza Milan e Forza I Devi dire Forza Milan, noi Juventini siamo tutti ladri Ok, devi dire così Eh? Se lo dici due euro Forza Milan Forza Aider, noi Juventini siamo cacerati No, siamo dei ladri Siamo dei ladri e cacerati Ok Grazie Devi stare innegato alla Juve ha detto Forza Milan Bravo, bravo Vuol dire che hai capito che la Juve non è una vera squadra Io non tradirei mai la Juve, non lo lascerai mai Quadra, e cosa farei con quest'euro? Fatelo nec Tutto nec Va bene ragazzi, con il Duomo di Milano e lo sfondo chiudiamo il video Scrivete nei commenti che cosa avreste fatto voi Se avreste accettato i due euro O se sareste rimasti fedeli alla vostra squadra Con questo bello sfondo noi vi lasciamo Iscrivetevi al canale, mettete like, condividete il video, fate quello che volete Noi ci vediamo al prossimo video Urrate Birlasvulmio3 Uno, due, tre Birlasvulmio3 Birlasvulmio3